Cosa succede dopo l'ultimo respiro? Beh, succedono tante belle cose, normalmente sono proprio belle, sono belle esperienze, ce lo raccontano questo le NDE, però prima di entrare nello specifico di che cosa si vede, che cosa si percepisce nel momento in cui si muore, che è argomento di un altro video, che ti rimando alla fine di questo, voglio raccontarti che cosa succede nello specifico esattamente nel momento, subito dopo l'ultimo respiro. Ce lo descrivono molto molto bene, in modo molto specifico e in modo, io trovo assolutamente sensato, i tibetani nel loro libro tibetano dei morti. Le NDE non fanno altro che confermare questo che ci raccontano i tibetani, però i tibetani ce lo spiegano in modo talmente preciso che è utile capire che cosa succede. Te lo spiego io, non comprare il libro tibetano dei morti perché ti spaventerebbe, è pieno di simboli, non capiresti nulla, lascia perdere. È difficile persino per me che invece ho studiato molto molto bene e approfondito molto bene la lezione anche con dei maestri tibetani. Ecco i maestri tibetani mi hanno dato queste chiavi che ti condivido. Che cosa succede? Andiamo al dunque. Allora, al corpo, vabbè, legato all'ultimo respiro, si muore in qualche modo. Se dipende dal tipo di morte che abbiamo, potrebbe fermarsi subito dopo il cuore e l'attività cerebrale ci mette un pochino di più perché non gli arriva più ossigeno, ma muore anche quella. Quindi diciamo moriamo. Moriamo e dopo la morte, dopo la morte fisica, i tibetani ci dicono che c'è un'altra morte. Quindi, clinicamente siamo morti. La prima fase di questa morte ha riguardato per i tibetani l'abbandono del corpo attraverso l'abbandono dei quattro elementi, terra, acqua, fuoco e aria. Ma c'è un altro elemento che i tibetani includono che è l'etere, cioè lo spazio che in qualche modo contiene anche l'aria. Anche l'aria in fondo è fatta di ossigeni, di molecole, di cose, e c'è uno spazio che li contiene. E anche quello va abbandonato. In altre parole, quello che abbandoniamo è un corpo energetico, quello che gli indiani chiamerebbero chakra, i chakra, o la kundalini, cioè quella energia che insiste sul corpo fisico. L'aurea. Tutte le tradizioni mettono l'aurea perché in certe persone sante si vedrebbe quest'aurea, no? Quindi nelle chiese vedi l'aurea intorno alle persone, ma seranamente lo vedi anche nei musulmani c'è l'aurea, anche nei buddhisti c'è l'aurea. E c'è chi, ci sono delle persone che dicono che vedono l'aurea colorata delle persone. Ecco, quest'aurea, questo corpo non fisico, è comunque un corpo, un corpo fatto di informazioni, un corpo fatto di energie. Queste informazioni ci riguardano, riguardano questa vita, quindi questo io mi chiamo Claudio, ecco, il fatto già che mi chiamo Claudio, c'è un'etichetta, ci sono degli schemi mentali, ci sono delle formazioni, diciamo, dei vizi karmici, c'è una tendenza, gli psicologi le chiamerebbero coazione a ripetere, una tendenza a ripetere degli schemi, dei procedimenti, dei pattern. Ecco, queste informazioni insistono in questo corpo di energia, un corpo di energia fatto di informazioni, ok? Per i tibetani noi prima creiamo questo corpo, questo corpo di informazioni, poi su questo corpo di informazioni si crea il corpo fisico e poi alla fine, quando cessa il corpo fisico, una volta riassorbito il corpo fisico, dobbiamo abbandonare anche il corpo mentale, il corpo psichico, questo corpo di energia. Quindi, dopo la morte clinica, quando siamo clinicamente morti, dopo l'ultimo respiro, c'è ancora una piccola fase, una fase che può durare come un attimo, ma potrebbe durare anche nella stragrande maggioranza dei casi il tempo che noi abbiamo per consumare un pasto. Ecco perché i tibetani ci invitano a non aver fretta di, appena è morta una persona, di vestirla, strapazzarla, piangerci sopra, strattonarla, ma lasciarla tranquilla in modo da permettere a questo corpo di energia di essere assorbito. Che cosa succede in questo assorbimento? Interrompo al volo solo per ricordare che c'è la possibilità di sostenere il canale attraverso una donazione qui, dell'importo che vuoi tu, c'è scritto, c'è un cuoricino con su scritto grazie, clicchi sopra e mi fai la donazione che vuoi, un caffè, va benissimo. Se poi vuoi offrirmi una birra, tanto di guadagnato. Se poi invece vuoi essere più costante nell'offrirmi un sostegno, ci sono degli abbonamenti, ti invito a scoprirli da te. Riprendiamo il video, grazie. Che cosa succede esattamente dopo l'ultimo respiro? Che cosa percepiamo anche? Beh, percepiamo l'abbandono dei vizi capitali. Per noi cattolici, per noi occidentali, i vizi capitali sono sette, ma insistono su tre macro-categorie che i tibetani invece usano, i buddhisti in generale, usano queste tre categorie legate a quelle che loro chiamano i tre veleni. Tutto ciò che è brama, desiderio, attaccamento, viene abbandonato prima, si percepisce mi pare una grande luce bianca, quindi come un pallore, come uno stato lunare, fai conto. Poi viene abbandonato tutto ciò che è avversione, rabbia, fastidio, schemi di rancore e vengono abbandonati come in un clima rosso, come in un panorama di un tramonto molto molto rosso. Dopo che abbiamo abbandonato anche abbiamo abbandonato il desiderio e la brama, abbiamo abbandonato gli schemi mentali legati all'avversione, alla rabbia, e poi c'è un ultimo schema mentale che abbiamo, che è quello dell'accidia, la chiameremo noi. C'è dell'ignoranza, della voglia di mettere la testa sotto la sabbia, di non reagire, di rimanere imbambolati e semplicemente far orecchie da mercante. Questo è l'ultimo schema mentale e a un certo punto abbiamo abbandonato tutte le nostre informazioni e c'è un momento di buio, c'è il nero. Subito dopo questo nero appare una luce, una luce che ci attira e ci ritroviamo a essere quella luce, una luce divina, non siamo più, abbiamo abbandonato tutti i nostri schemi mentali e ci ritroviamo in un stato di grazia, di luce meravigliosa e stupenda. Che cosa poi succede da lì in poi? Ce lo raccontano molto bene, in modo anche bello, le esperienze vissute nelle NDE e ti rimando quindi a questo video.